lettori amici appassionati di libri Jack Frusciante è tornato nel gruppo quindi nel gruppo dei romanzieri dopo aver camminato consumato scarpe, chilometri, paesaggi, cieli, nature, Brizzi è tornato a romanzo soprattutto al suo stile con questo libro, guardate bene il titolo e leggetelo, vi porterà a camminare stando fermi Jack Frusciante è tornato nel gruppo